benvenuti a compila quindi va ciao buonasera ben arrivati basso un po la musica che è un po un po alta dicevamo benvenuti a compila quindi va ok troppo alto vabbè un po concentrato con la webcam come al solito come va oggi è no sto per dire dai che oggi è giovedì invece oggi mercoledì ragazzi perdi i giorni non ce la posso fare così è il brutto del mestiere tutto a posto sì qui vedo che funziona tutto ogni volta devo ricontrollare un po tutto perché con questo computer si fa veramente qualsiasi cosa tra installa disinstall l'ambiente di sviluppo e docker streaming programma di grafica aggiornamento di windows o un plugin per il menu di avvio che adesso non funziona più o meno c'è un colore scuro strano sono disabilitato un attimo perché mi faceva delle bizze e ok argomento argomento serale intanto mi arrivano delle notifiche un po la per tutto se devo mettermi un un effetto un effetto per notifiche che sia più tipo tipo questo ma forse un po violento argomento serata quindi live molto scialla per la verità parte che sono partito in ritardo come al solito mi sono dimenticato l'acqua dopo l'andrò a prendere e come condiviso oggi con estremo ritardo perché purtroppo sono stato molto indaffarato in questa live volevo avere un attimo un po con un po di calma finalmente placate un po le acque per dare un'occhiata alle novità di delfi vabbè 11.3 alexandria però va bene non piace chiamarlo così perché mi piaceva molto di più il nome il codename diciamo alexandria ovvero malawi piace essere perché nome più malawi toso ok mi piaceva di più perché alexandria mi sono sempre di parlare dello stesso in realtà si è la versione sempre la 11 quindi la stessa però insomma sempre nuova release ci sta a distinguerla comunque dalle precedenti al netto del numero dagli anche un nome diverso e quindi anche perché siamo stati abituati a 2009 2010 da un altro versioning che poi è cambiato prima con i numeri poi con gli anni poi di nuovo con i numeri ancora insomma diventa non ci si capisce più nulla a volte vedo che ci si confonde comunque l'importante è diciamo questa è la release 3 quindi di delfi 11 alexandria che quindi obiettivo della live è dargli un'occhiata un po' profondita anche se c'è già stato il webinar di presentazione se ne è già parlato in giro poi immagino che avete avuto modo di vedere un po' quali sono le news il mio l'avevo già installata nella live di lunedì e quindi mi c'ero già un pochino cimentato però non so se qualcuno l'ha già installata se ha avuto occasione di farci un giro ecco durante la live di lunedì mi sembra che comunque fosse abbastanza tranquillo e stabile quindi l'LSP mi sembra migliorato anche perché abbiamo che è una delle aree diciamo di focus maggiore infatti volevo prendermi proprio un attimo per andare a leggere il what's new e vedere anche nello specifico un po' che bug uno so che non è stato risolto infatti l'ho scritto anche sul sul gruppo facebook di delfi club error loading data addirittura sulla sulla pagina di get it però la connessione internet ce l'abbiamo quindi deve essere un errore ah ma aspetta non è che siamo sempre perché abbiamo installato dalla iso no forse non c'entra niente dobbiamo mettere la modalità online lo scaricato è stata ieri sera ma non ancora avuto modo di usarla perché avete la dato ricordo che comunque la potete installare tranquillamente su una precedente 11 nel senso che va in sostituzione quindi se avete una 10 quindi si installa side by side ma con le 11 attenzione che non si installa side by side perché fondamentalmente è lo stesso prodotto solo una nuova release quindi come un hotfix per cui vi attiva con la stessa licenza è lo stesso che è strano che non mi non mi scarica da get it delle informazioni error loading data unable to load all get olympus embarcadero object lock not owned c'è un problema c'è un problema su qualche sito ma tanto io questi tool non li uso perché poi a volte mi capita di essere offline e mi danno un pochino da fare quindi la vi faccio mio la mia layout quindi ho avuto modo già lunedì mi sembra abbastanza stabile anche perché appunto il lavoro maggiore di questa release fondamentalmente è stata fatta nel a livello di qualità quindi le soluzioni di bug e quant'altro e quindi sembra cosa di poco conto ma in realtà ci sta perché comunque c'erano diverse aree su cui intervenire io spererei anche che questa possa diventare la base su cui costruire nuova community non perché come sempre mi interessi cioè in maniera smonta cioè non uso io la community però so che magari a livello promozionale può essere distribuita quindi la precedente forse inizia a essere un po' vecchiotta magari per l'ambito mobile vale la pena insomma aggiornare magari un pochino non so qual è l'effort che comporta ogni versione community però insomma non vorrei che passasse quel lasso di tempo che faccia pensare che poi la community sia qualcosa che rimane fermo cioè che sia un'iniziativa del momento e il momento sia andato piuttosto che qualcosa che venga anche perché magari andando in giro e a volte attivamente mi sta capitando abbastanza spesso di parlare suggerire l'installazione se poi finisce per non funzionare più avere qualche problema insomma non è proprio che succede una pubblicità c'è la pubblicità di no di spotify mi è finito il no mi è finito il premium il premium di spotify infatti sentivo parlare ma chi è che parla che c'è il cavolo cavolo niente spotify poi lo vado a rinnovare dopo io sono un utente premium di spotify perché lo apprezzo un sacco annetto che poi uso vabbè la musica rilasciata come dire royalty free anche sulle sulle live però mi piace come servizio e quindi l'ho sempre ho sempre fatto una un abbonamento tra l'altro annuale secco quindi risparmiando qualcosa ma tanto io so che comunque continuo a utilizzarlo perché mi mi piace molto sia come funziona che come che anche l'app ho provato delle alternative che dovrebbero qualitativamente essere maggiore oppure però non mi piacciono le app non sono reattive non sono come dire non sono come spotify tra l'altro se avete netflix c'è documentario si chiama playlist mi sembra su spotify sulla storia un po forse c'è un po' romanzata ecco quindi non è proprio che però l'ho trovato molto carino e molto interessante dal punto di vista e quindi lo consiglio se non sapete cosa guardare una cosa non necessariamente per nerd ma comprensibilissima comunque a chiunque quindi per cui no dicevo questa il tema di questa release appunto la la qualità quindi molto molto effort è stato messo nel bug fixing soprattutto in nel delfico di insight io così quasi mi posto di scena così possiamo iniziare a buttare un occhietto sto facendo lo scroll sullo schermo sbagliato ok se inizia a esagerare quindi di rack studio next hundred industry is available for installation eccetera allo used to customize the code editor look and feel con la nuova tool sapi code editor look and feel è un termine un po' più adesso che lo leggo un termine un po' più generico di quello che pensavo io perché look and feel vuol dire appunto il tema e tutto il resto mentre da quello che ho visto la nuova tool sapi permette proprio di come dire inserirsi nel disegno del codice quindi sicuramente per tutti quei tool che non so devono evidenziare qualcosa fare magari disegnare un menu fare delle degli interventi sul codice avere questo già andiamo nella direzione che io mi sono spesso prospettato cioè quella di avere anche disposizione dei servizi con l'open tool spi che consentono di avere una visione anche del codice cioè questo dflsp deve in qualche modo arrivare ad essere l'interprete con cui tramite un modello oggetti noi sappiamo qual è il codice cioè io magari ho un oggetto che mi rappresenta una classe aggiungo con un metodo chiamando un metodo adfield metto il nome di un campo metto il tipo e mi aspetto che in quella classe venga dichiarato un nuovo campo con quel tipo ecco cioè riuscire ad agire sul codice e questo aprirebbe ovviamente tutto un insieme di come dire di plugin di terze parti magari di refactoring o cose di questo tipo che però non devono reinventarsi di nuovo ogni volta un parser pascal e quindi essere continuamente aggiornati come dire con le nuove versioni e poter quindi anche in un certo senso lavorare liberamente su migliorie della sintassi da parte di a me in barcadero mi viene da dire e poi giustamente se installiamo più di un plugin quantomeno l'interlocutore con cui ciascun plugin parla per sapere diciamo la struttura del codice è uno e non tre o quattro che magari si pestano pure i piedi e come spesso accade essendo integrati nell'IDE quando uno di questi fa crash ovviamente fa crashare anche l'IDE e non sappiamo tra l'altro mai se la colpa dopo di chi è anche la colpa perché qualcosa integrato nell'IDE che in base alle informazioni fa cosa e l'IDE crescia è l'IDE che non supporta la richiesta o chi ha fatto il plugin che ha sbagliato qualcosa quindi invece in questo senso e poi comunque è un effort che ciascuno deve fare e che così potrebbe evitare di fare il parsing del codice sorgente quantomeno e quindi per cui abbiamo questa tools API che sarebbe magari interessante sperimentare eventualmente in una futura live anche io ho affrontato l'argomento tools API un po' di tempo fa portandolo in IT DevCon vabbè l'estensione che avevo fatto qualcuno se la ricorda ancora che era presente quella che facendo una build se c'era un errore di programmazione faceva un peto quindi con gamma di peti configurabili quindi una roba sopraffina proprio per palati fini come si suol dire però sì c'erano un po' di demo su come utilizzare come estendere l'IDE perché giustamente io in quel momento mi ero fatto un po' sopraffare dalla bellezza che abbiamo anche se l'ambiente ovviamente è molto diverso in Visual Studio Code di avere un ambiente dove praticamente sono ogni cosa ma anche lo stesso Visual Studio il fratello maggiore tante funzionalità arrivano da estensioni quindi che aggiungono magari non lo so mettiamo in def avere un menu dove tu clicchi nel project manager c'è new form clicchi, ti chiede il nome te l'aggiunge già con quel nome magari nella unit con un prefisso che vuoi tu con un nome già prestabilito cioè cosine piccole che però magari ti possono far aumentare di moto la produttività e la velocità con cui butti fuori cioè il mio sogno sarebbe un Resharper per Delphi ecco qualcosa del genere mi rendo conto che per chi non lo conosce Resharper è un tour per Visual Studio molto pesante che lo appesantisce molto ma che a mio avviso aggiunge tante funzionalità interessanti e del solito la prima cosa che installo anzi di solito considero Visual Studio una scena necessaria per far girare Resharper quindi Resharper porta apporta delle funzionalità che tra l'altro adesso sono anche standard di Visual Studio però l'abitudine agli shortcut e alle sue funzionalità è talmente tanta che non riesco a farne a meno e quindi c'è poco c'è poco da fare insomma come dire mi piacerebbe qualcosa simile su Delphi c'è MMX Model Model Maker si chiama MMX per dire all'italiana che qualcosina ce l'ha abbastanza furbino anche sui warning che ti lascia ha un po' di queste funzionalità però vedo che comunque anche il tour ha bisogno di a volte lascia una finestrella anche quando chiudi il codice avrebbe bisogno di essere un pochino più termine esatto polished in inglese non so in italiano con la cera un po' un po' abbellito un po' un po' curato in modo che si adatti un po' tutti gli scenari comunque vabbè pian pianino ci si arriverà in addition c'è il nuovo componente Biometric Authentication che mi piacerebbe provare anche per capire quanto è facile da utilizzare quindi sarei curioso di provarlo anche se non so come si usa però io per sicurezza intanto mi accendo il mio cellulare che uso per le sperimentazioni che può essere che magari dopo mi venga voglia di provarlo se faccio in tempo quality performance and aspect in delfi lsp e le varie librerie quindi key quality area qui inizia a fare l'elenco puntato ma vado per gradi new feature ok tools api support quindi abbiamo un set di tools api interfaces per customizzare il code editor quindi fare del painting ricevere informazioni sugli editor sul contenuto anche attraverso degli eventi hanno fatto vedere nella live webinar qualcosa dove dice sul painting quando sta per scrivere il codice nella finestra che c'è quel flag dove tu puoi fare un prevent cioè puoi prevenire la gestione diciamo ordinaria e nel demo praticamente va a scrivere in maniera invertita le parole chiave fa vedere che vengono tutte invertite cioè nell'atto di stampare di fare il display del codice sull'editor e come abilitare un owner draw quindi si può aggiungere qualcosa prima o dopo la gestione ordinaria oppure dire non scrivere codice e farlo manualmente però magari con delle variazioni che possono essere un cambio di colore un'evidenzazione eccetera e da quello che ho capito alcune delle nuove implementazioni che sono nell'editor tipo far vedere le parole uguali sono state già implementate usando questa architettura cioè questa API è già stata utilizzata magari da package che sono all'interno del infatti vedo qui c'era la welcome page c'era già ok anche questa sarebbe interessante da andare a esplorare in realtà quindi questo vuol dire qualche plugin che ha bisogno di interagire con l'editor da quello che ho capito in realtà non sono sicuro quindi prendiamo questa notizia con le pinze ma da quello che ho capito l'API che è stata come dire resa interna operativa è quella utilizzata dai plugin bookmark o navigator qualcosa del genere che integrandosi hanno diciamo si basano su queste API che quindi adesso è integrata in Delphi e presumo che i nuovi i plugin faranno in questo caso uso di questa nuova API quindi teoricamente non ho provato ad installarli ancora i due plugin che comunque utilizzo perché bookmark è molto è molto comodo da un certo punto di vista quando fai un control click lasci giù un bookmark puoi tornare indietro puoi fare il successivo sono molto interessanti e questo però ovviamente apre la porta magari facilita sia imbarcadero metta delle funzioni nuove sul code editor sia chiunque voglia fare un plugin quindi l'obiettivo come dice qui è quello di fornire un'API completa che copra diciamo il code editor dal punto di vista di quello che c'è scritto dentro e anche la presentazione cioè la visualizzazione il drawing il disegno del codice the new API makes it very easy to write plug-in ok such a power fbi è così potente che abbiamo già spostato diverse funzioni dell'editor per utilizzarlo ecco questo di solito un po' mi allarma perché quando ci sono funzionalità che vanno tipo il code insight e c'è scritto ora si basa sul nuovo lsp lsp è nuovo e non è molto testato si rischia di come dire compromettere delle feature cioè capisco l'esigenza non ci mancherebbe ma VOP DPI spursi innovation in plug-in e produttivity ed on sicuramente sarà una cosa da vedere sarà una cosa da analizzare quindi prepariamoci che una live sopra c'è di esplorazione ce la facciamo senz'altro magari cercando di costruire qualcosa di più di più fubbino rispetto all'invertire le parole chiave che insomma va bene come demo ma non mi sembra utilissimo da questo punto di vista magari qualcosa di più semplice ma che può avere l'utilità quindi si possono intercettare tutti gli stage di painting nell'editor o linea per linea oppure quando viene disegnato il gutter o il testo prima e dopo ogni passaggio quindi di questa di questa fase ogni fase di questo di questo processo e quindi aggiungere qualcosa a quello che fa l'id oppure addirittura sostituirlo completamente quindi questo è interessante per un editor quindi l'utente può fare una interrogare il suo stato con una moltitudine di informazioni disponibili sia sull'editor in generale che linea per linea paint events include full context quindi probabilmente mi aspetto che questi eventi abbiano ser ciao power power o si può dire immagino quindi mi aspetto che da questi eventi entri un oggetto che contenga tutte le possibili informazioni quante più possibili sul contesto cioè sul punto in cui si sta agendo nell'edito del codice quindi può essere senza altro interessante quindi qui c'è un'esplorazione delle nuove API vabbè la tool CPI è quella che conosciamo già tranquillamente quindi qui ci sono breakpoint bugger services a volte lo bistrattiamo un po' quest'ide ma effettivamente ci sono una marea l'interfaccia la splash page per ogni cosa che abbiamo dentro l'ambiente e dove andarci a inserire quindi diamo un'occhiata magari breve a quelle nuove notify different kind of events in the code editor guardiamo poi code editor events se qui troviamo magari qualcosa log after stages editor mouse up mouse move qui fa vedere se la linea è truncata and paint begin paint prima di disegnare dopo il disegno dell'editor quando fa il paint del gutter della riga del testo UI option code editor UI option andrebbe visto nel codice direi come sempre la documentazione per queste cose è probabilmente molto molto truncated class method different action qui c'è un allow the events extending the using the tools API come creare un package ecco qui c'è un po' di documentazione la documentazione migliore secondo me è quella che si trova in giro adesso non mi ricordo il link però c'è un blog dove si parla in maniera molto estesa dei servizi del lead e quindi spiega un po' che cosa si può fare la welcome page c'era già in realtà non so se è stata in qualche modo estesa praticamente la welcome page che poi è qualcosa che potremmo anche qui esplorare giusto per il gusto di farlo è qualcosa con cui ci si può interfacciare per andare qui ad aggiungere qualcosa qui dentro quindi questo edit layout questi plugin learn promoted new in get it sono cioè c'è la possibilità di installare un package che interfacciandosi appunto con le open tools API vada ad aggiungere qui una casella che è trascinata consente di far vedere un vostro frame all'interno del questa è la ok l'impostazione della welcome page va bene così all'interno del vostro pannello quindi fare integrare un vostro frame qui dentro magari un frame con un browser che va a visualizzare oppure una control list che fa vedere non so un API task che dovete chiudere su su Azure sul vostro sistema di version control qualcosa del genere quindi anche qui ovviamente la welcome page è cambiata un po' ha cambiato un po' pelle quindi qui sarebbe un po' da come dire andare comunque da andare a esplorare comunque la costruzione di plugin di terze parti in questo caso è molto incoraggiata quindi magari un giro ce lo faremo che potrebbe essere se mi viene in mente un espediente qualcosa che si possa utilizzare in questo senso magari ci facciamo una live e ce la andiamo a esplorare in separata sede la studio code editor ok questo l'hanno fatto vedere quindi quando selezionate una parola vi evidenzia tutte le parole uguali quindi a colpo d'occhio se siete in un'area di codice riuscite a vedere magari se fate un doppio clic evidenziate il nome di una variabile ad esempio tutti i punti in cui quella variabile viene utilizzata queste sono feature abbastanza comuni quindi su altri ambienti soprattutto su editor e quindi ci sta quindi mi sembra una buona aggiunta perché colpo d'occhio non sembra ma comunque sono tutti piccolezze che alla fine però aumentano molto la produttività quindi ci sta ci sta come come aggiunta e sì questo è un esempio di feature che con le nuove API è abbastanza facile da fare perché facendo una query potete sapere dall'editor qual è il testo selezionato se dentro trovate una parola qualora voi fate l'override del painting delle righe troviate un punto in cui per esempio un'altra parola ci mettete sotto uno sfondo e lasciate che l'idea continui a disegnare e avete evidenziato le parole uguali cioè anche qui è un esempio di come ottenere una feature fuori probabilmente l'hanno fatto apposta per testare poi il funzionamento della nuova tool CPI ciao Muzio ben arrivato quindi key issues ecco Delfil SP è un po' la bestia nera è un po' croce delizia perché in realtà anche da quando è stato introdotto l'idea è molto buona quella di avere un server esterno che gestisca la l'analisi del codice in modo da dare dei risponsi per il completamente automatico far vedere gli errori le cose di questo tipo l'unica cosa che non ha mai funzionato benissimo fino ad oggi perché sì perché la vecchia tecnologia pur essendo abbastanza stabile non supportava le nuove sintassi e mi risulta fosse basata su qualcosa in .NET quindi addirittura o il vecchio together come alcune funzionalità di refactoring che ci sono nell'ambiente che secondo me andrebbero completamente riscritte cercando di tirar fuori come dire le informazioni sul codice sia da quel da quel parser univoco che andrebbe fatto o comunque andrebbe perfezionato o sfruttando l'SP cioè l'SP deve diventare il tuo descrittore che ti guida nel sapere come è fatto il codice e quindi sapere anche ad esempio come rifattorizzarlo al posto di quelle vecchie implementazioni .NET che sono le lead già da tempo che avevano senso in Delfi 2005 perché fondamentalmente c'era un ambiente unico Win32 .NET scrive il codice .NET era da supportare e quindi implementi visto che .NET aveva il codon ed era da fare per Delfi ed è stato fatto lo implementi in modo che cambiasse il codice Delfi sia in Win32 che in .NET poi il supporto .NET è scomparso o meglio non fa più parte di Delfi tradizionale tra l'altro Delfi Prism e altri tool che fine avranno fatto forse Oxygen so che esiste Oxygen so che ci sono altri tool quindi è proprio scomparso da questo punto di vista però poi sì il linguaggio si è evoluto e quello non ha seguito molto l'evoluzione quindi qui dicono Significant Focus on Quality questo era quello che aveva più bisogno di essere testato soprattutto testato perché aveva dei comportamenti molto variabili così si dice così è stato detto al variare del codice in termini di dimensioni tipologie di utilizzo cioè in certi casi c'era c'era una casa in cui falliva non si riusciva bene a capire perché grazie per il follow Bungor Bungor F non leggo male apposta però però un acronimo sediti bene sono seduto bene sono solo un po' più in basso ma perché ho un supporto per la cam che potrei farla girare a 360 gradi su giù destra sinistra e snodato però riesco sempre a posizionarlo male arrivo 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 che ci provo mi racconteresti bene se riesci sono sviluppatore software quindi molto sinteticamente poi sviluppo software utilizzo linguaggi come identifici sharp javascript python a volte visual budget dotnet ma meno possibile e ho aperto questo canale insomma per un po' fare del coding in live così con la complicità di chi apprezza in chat così in relax partecipare scambiare quattro chiacchiere vedere un po' di cose insieme a volte porto magari qualcosa da illustrare a far vedere a volte invece come in questo caso questa sera do un'occhiata a qualcosa e così lo si fa in compagnia per cui qual è la migliore linguaggio da imparare per bene è quello che ti piace di più perché io qui al momento sto portando live principalmente su Delphi perché altri linguaggi sono già trattati da altri che sono cioè da altri canali e quindi questo è quello un po' generalmente meno inflazionato perché è un po' di nicchia anche se secondo me per chi inizia può essere interessante ho fatto un webinar sul mio canale sull'home page ci deve essere ancora il riquadro dove ho messo un link a un webinar che ho fatto proprio a febbraio quindi proprio adesso dove faccio una panoramica introduttiva di Delphi cos'è come funziona perché utilizzarlo magari al posto di altre tecnologie tipo un visual studio un flutter sia per applicazioni desktop che per applicazioni mobile perché comunque si basa su un pascal quindi abbastanza semplice secondo me è uno dei linguaggi validi con cui iniziare un altro potrebbe essere python o javascript però dipende anche molto da cosa si vuole fare quindi è anche un po' dei gusti personali perché alla fine anche quelli contano se uno lo vuole fare per hobby se uno lo vuole fare come dire di mestiere o tutte e due in questo caso siamo io penso di unire entrambe le cose però sì il miglior linguaggio è un po' come chiedere qual è la birra più buona se senti da chi io non sono la persona che chiede della birra che a me non piace però sentendo da da altri chiaramente ognuno ha la sua preferenza e grossomodo ci stanno tutte quindi lo stipendio di un programmatore beh comunque gli stipendi sono variabili dipende poi ovviamente da che studi hai fatto da dove da come ti proponi perché generalmente se vai non so a sviluppare siti di frontendisti cioè gente che magari fa la parte visuale di un sito se uno è un junior quindi appena iniziato ovviamente deve farsi un po' le ossa quindi di più che lo stipendio conviene inserirsi in un buon team in cui uno possa crescere cioè questo in generale penso valga in Italia ma anche in Svizzera anche in Italia poi gli stipendi sono un po' variabili non è come come dire fare un po' piedini dipende anche un po' da come uno si vende quindi chiaramente dipende da società a società quindi uno potrebbe dire potrebbe variare dai 25 35 40 dipende ovviamente da quello che sai fare o quanto velocemente puoi imparare perché è anche una questione di attitudine dal mio punto di vista chiunque può imparare a programmare anche perché non è un'attività difficile in un certo senso però è chiaro che l'esperienza in certi versi in certi versi conta quindi se uno fa il dipendente ovviamente dipende dalla figura che poi ricopre per cui ci sono troppe variabili troppe non è come fare il cuoco diciamo ci sono troppe discipline sai avendo a che fare poi con con quella bestia satanica che il computer nel computer ad oggi si fa tutto quindi tra grafica programmazione analisi di dati e adesso le cose iniziano veramente a mescolarsi perché con l'intelligenza artificiale subentra in campi dove non è mai magari subentrato o comunque dove non ci sia mai aspettati eh dovrebbe andare a fare l'università allora se rocchini in un forum che io frequento tutti dicono di sì io non ho fatto l'università cioè secondo me il dovrei è no non obbligatoriamente però anche lì dipende dipende da qual è la tua ambizione perché che strana domanda è così precisa eh ci può anche stare quindi almeno però dipende da cosa dipende anche poi da che età hai quindi perché chiaramente se hai 30 anni direi che comunque conviene partire subito con qualcosa quindi no c'è un po' di scetticismo verso alcuni corsi online che ti possono formare già in breve tempo nel fare qualcosa tipo lavorare su un front end ci sono diverse società che lo fanno non lo nomino sono abbastanza note ne nomino giusto per non fare pubblicità però so che come dire per certi versi alcune sono un po' specchietti per le allodole altre perché comunque in sei mesi ti dicono non diventi come dire mastro però è anche vero che con la formazione che ti danno puoi partire fare qualcosa quindi chiaramente se sei molto giovane concordo che l'università potrebbe essere un punto di partenza perché in ogni caso alcune aziende lo mettono come filtro ecco quello che vuoi fare se dicono cerchiamo un laureato ecco lì al netto che ti servo meno quello è il biglietto che devi io non l'ho fatta però lavorando come dipendente facendo un'esperienza alla fine data la nomea cioè acquisendo esperienza con quella ho sopperito un po' alla mancanza della formazione che un'università magari mi darebbe su certe cose e come dire un po' la rimpiango un po' no perché magari alcune cose mi dispiace non non averle approfondite quando era il momento avrei potuto ma da un certo punto di vista mi fa anche piacere essere partito immediatamente sul lato pratico e quindi insomma aver fatto esperienza da quel punto di vista da subito perché comunque con tanti anni di facendo questa cosa per tanti anni come dire conta anche quello di cose ne ho viste ne mancano ancora da vedere più ne vedo più inizio ad essere preoccupato ad oggi però come dire sono tutte un po' domande esistenziali che secondo me variano da persona a persona quindi dipende un po' da quanto poi ti piace deve piacere questo mestiere perché se lo fai per otto ore minimo al giorno se uno lo fa per sbarcare il lunario anche lì ce la può fare però se uno gli piace gli piace anche rimanere aggiornato della curiosità e prosegue e diciamo trova anche un buon team in cui crescere secondo me alla fine può essere piacevole ecco bisogna qui si cerca infatti spesso io almeno nel fare dei corsi o formazione così quando mi capita cerco di trovare il modo di applicare delle tecniche per cui uno nello sviluppare si diverte anche un po' perché altrimenti c'è rischio di sbarellare quello ci sta e quindi però a mio parere quindi consulta magari se ne conosci altri sviluppatori ti diranno altre cose però appunto lì dopo secondo me è proprio perché poi ognuno avendo fatto diversi percorsi tende un po' a considerare cioè se chiaramente è andato a fare non lo so il un altro mestiere è un conto ma se invece lo fa tutt'oggi con passione lo fa e lo fa anche discretamente bene tende a vedere il proprio percorso come quello che è un percorso di successo minimo comunque valido però non è non ce n'è uno solo ce ne sono tanti dipende anche dalla persona io ho uscito da scuola non avevo voglia di riprendere cose che ti dessero dei punti o cose ovviamente la bellezza di creare qualcosa che prima non esisteva esatto sì cioè quindi esatto quello dipende anche un po' dal percorso mi hanno messo in mano un computer molto giovane e lì ci sono fulmini cioè poi quella storia lì non la racconto mai del fatto di come ho iniziato perché tanto visto che tutti gli sviluppatori hanno fatto lo stesso percorso quindi di solito evito quando me lo chiede evito di annoiare perché se io dico avevo 14 anni o mi hanno dato un Commodore 16 se trovo un altro sviluppatore di lunga data anche lui più o meno alla stessa età ha avuto un computer simile che fosse un Vic 20 o un Atari cioè tutti abbiamo abbiamo attraversato quella fascia d'età dove nel momento in cui devi giocare con certi giocattoli e pensare alle ragazze che ci hanno messo in mano al computer e ci hanno fregato per la vita quindi ci hanno fregato in un certo senso no perché facciamo quello che magari ci piace fare anche se puoi farlo tutto il giorno ci vuole ovviamente la pazienza però un po' un po' effettivamente la storia è così qualcuno un Commodore 64 chi magari è partito appena dopo chi addirittura ancora prima quindi magari è così ci hanno dato in mano questi aggeggi magari per giocare perché magari il cugino che lo usa per giocare poi si stanca te lo dà tu trovi il manualetto almeno a me è capitato così il manualetto del Commodore 16 e vedi delle robe scritte e sotto c'è un disegno e c'è scritto se scrivi questo tieni questo in inglese tra l'altro fatica a leggerlo però non si legge provi a scrivere provi a eseguire le istruzioni vedi l'effetto e dici cavolo ma allora questa macchina gli posso far fare quello che voglio io e quindi alla fine è da lì e da lì parte il casino dopo dici ah ok quindi posso fare anche i giochi posso fare anche tutte queste cose inizi a viaggiare con la fantasia poi ti trovi a fare gestionali programmi noiosi a installare stampanti no vabbè questa è un'altra è un'altra storia però dopo ovviamente dipende da dal percorso di ciascuno è quello che quello che poi piace di più però più o meno tutti i sviluppatori se sono di lungo corso hanno questa storia cambiano le variabili ma quindi non è cioè la mia storia non è niente di inedito è quella di tutti quelli che penso avendo la mia età stanno ancora sviluppando no per cui Delfi sicuramente è una buona scelta c'è una versione community gratuita vediamo se riesco a no questo è il sito ufficiale non mi ricordo se ho fatto un comando per la community no bravo vabbè comunque lì si trovano tutte le informazioni c'è una versione anche gratuita volendo da scaricare con cui si fanno applicazioni Windows applicazioni mobile eccetera eccetera io ho un blog dove ho appena messo ok questo funziona ancora dove ho messo un link al webinar che ho fatto proprio pochi giorni fa domani sera ne ho un altro per chi è interessato a API REST con Python siamo ancora finiti di preparare il materiale ma con calma tanto è solo domani sera quindi se mi sentono mi uccidono ma per cui si parlerà di Web API REST però non con Delfi ma con Python quindi se può interessare seguire anche quello basta cercare Rete Informatica Lavoro c'è il sito o il blog con i webinar in programma non so se ne hanno aggiunto visto che hanno messo qualcosa su Facebook mi compare la mia faccia con scritto sponsorizzato e mi fa un po' strano ok grazie mille Sandro che che metto un link che viene accettato perché è utente VIP ci sono ah tra l'altro adesso devo andare a mettere cavolo non riesco a farlo direttamente qui no eh three days no no il ban no devo metterlo anche su Valerio che li considero un po' come moderatore cioè quelli che sono più assidui sul canale gli ho messo il il gagliardetto adesso lo faccio perché poi me lo scordo quindi vado tanto è questione di un attimo così e siccome sono affidabili possono postare in realtà poi i link penso siano aperti a tutti quindi perché è abbastanza raro che ci sia del dello spam però se dovesse tanto con un click io lo depenno quindi faccio poi anche abbastanza presto fedeltà ah no non è vero devo andare su twitch ah no allora un po' più complicato allora lo faccio dopo mi devo ricordare di farlo ma lo faccio dopo ok comunque grazie per il link allo starter free speriamo che l'aggiornino con questa versione perché è più completa sia abbastanza stabile quindi dai proseguiamo ok dfdsp quindi hanno aggiunto ok helpinsight che era già stata era già stata corretta sapete che l'help che compare non è più basato su quella la finestrella sembra identica al precedente però fortunatamente su questo canale no perché comunque c'è un siamo un numero di utenti abbastanza basso quindi è capitato qualcuno però alla fine se lo dovesse iniziare a vederlo ovviamente metto l'antispam ma più che spam è il bot mette della roba ma alla fine quindi lo lascio così perché se qualcuno magari un link è utile più più frequente l'utilità che non però dovesse succedere a basso e quindi sono già a posto lo metto dietro approvazione sono già sono già a posto quindi adesso non usa più l'helpinsight la finestrella che dà informazioni sul codice era basata su un web browser quindi adesso non funziona più non c'è più c'è stata sostituita usa sempre un xml con xslt che secondo me è un po' una mania però vabbè però non usa più il web browser perché l'intenspore 11 potrebbe anche non esserci sulla macchina in quanto da windows 11 se il browser si installa a parte se uno vuole forse non si installa neanche più e quindi finalmente ce ne siamo liberati forse abbiamo detto addio al 6 al 7 iniziamo a poter applicare degli standard overing over static method implementation work as expected non ero al corrente di qualche problema con i metodi statici vabbè quindi ctrl left click work as expected when using read only file anche qui non so perché un file read only dovesse bloccare il ctrl click però è stato fixato quando si preme enter in un oh questo questo era di un fastidio ma era di un fastidioso ma di un fastidioso una volta che ci fai una mano riesce ad aggirarlo però tutte le volte che succedeva mi veniva il attirare una saracca che si suol dire tutte le volte metteva l'end e adesso fa vedere anche le variabili quindi aniscio il ctrl click in the network con le directive ok adesso funziona quindi c'è anche un parsing che beh questo lsp lavorando poi sul codice effettivo dovrebbe essere molto più preciso facendo una sorta di compilazione rispetto a qualunque però vabbè aveva bisogno di un sacco di un sacco di no visto che nei metodi anonimi compaiono anche le variabili finalmente ci sono state fixate un po' di cose rimane quel difetto che quando si fa l'override dei metodi nelle classi discendenti con un controspazio e fai l'elenco dei metodi ne scegli uno e dai invio te lo mette a capo spostato in avanti ancora quindi quello so che su facebook c'è l'issue di Andrea Raimondi già aperta che è votato forse più di una volta perché ci possono mettere più voti fino a esaurimento e mi sembra una banalità però per qualche motivo o non viene preso in carico una volta mi sembra di averla vista anche come non riproducibile che voglio dire riprodurla è in questione di una frazione di secondo boh strano queste cose code complete in generic type now works ok quindi qui se dai una tipologia e la la definisci probabilmente adesso ti da ha il tipo corretto anche sul tooltip non riuscivo a trovare il source code se se c'erano file ah ok file con nome uguale in differenti percorsi secondo me anche avere un progetto che carica dei sorgenti da una cartella superiore entrando in un'altra cartella dava dei problemi perché io ho un package strutturato in questo modo e aveva tutte queste problematiche ma adesso quello gli cambio anche la struttura perché voglio seguirne un'altra alberatura che sia compatibile con con boss che abbiamo visto l'altra sera in modo così per prepararmi al futuro come se vuoi dire adesso adesso working if statement che usava questi simboli ah ok non funzionava più mi sembra mi sembra che ci fossero sì c'erano tutti dei frangeli dove a un certo punto tu fai contro spazio e non funziona e tu dici boh qualcosa che ho scritto male dopo prima metà cioè è anche vero che si basa sul compilato di un codice che formalmente non è corretto perché magari lo stai completando quindi è delicato il sistema però insomma dovrebbe essere un pochino più fatto meglio cioè comunque mi sembra che ci abbiano lavorato abbastanza sentiti dei feedback cioè molto più affidabile mentre il precedente era praticamente inutilizzabile tant'è che era uscito not fix che andava a ripristinare quello usato nella versione prima che aveva qualche limitazione ma comunque funzionava meglio della successiva quindi private types vengono mostrati ok subversion non ho capito come mai non distribuiscono più le dll io non lo uso più da tempo però sono distribuiti in separata sede va bene quality idpi sul form designer e in quality sul supporto idpi perché da questa versione è stato introdotto secondo me con grossa fatica perché il tentativo di mettere delle opzioni dove tu puoi scegliere i dpi oppure scegliere quelli che hai attivi o fissarli nel designer cioè se lanciate ad esempio Visual Studio fate un'applicazione in Windows Form i dpi sono quelli del sistema vi trovate o le finestracce o qui hanno fatto un bel lavoro secondo me però appunto tutta una quantità di lavoro con una serie di difetti che erano magari da correggere o qualcosa che era rimasto indietro degli issue da sistemare ok non visual component ah ok perché c'è il fatto di cambiare lo scaling dpi che riscala tutto però se stringe il form i componenti non visuali stavano tutti dopo all'esterno vabbè quello sì diciamo sì sono un po' delle banalità che vengono fuori magari nel momento in cui ti sei concentrato sulle feature font size che effetti in frame scaling ai dpi ok user can now create new markdown file true file new ah sì ok quindi è stato aggiunto finalmente anche questo file new deve essere un po' secondo me rivisto perché quindi adesso io posso fare un add new e in adder trovo su web ok trovo il componente markdown cioè il componente il tipo di file markdown vabbè ci stava cioè assieme agli altri se non c'è il supporto voglio dire è cross platform guarda che è un file di testo però vabbè ci stava e io anche qui hanno messo poi tutto sotto web però sì cioè qui ci sono dei file web ma io metterei individual files anche dei file di testo o comunque qualunque cosa qui vedo solo questi però farei un aumento di questi template anche su quelli più comuni però tanto meglio quindi se volete aggiungere un nuovo file markdown adesso avete c'è l'opzione quindi sapete che nel progetto quindi qui si apre il file markdown ah non l'ho salvato sorry ok quindi se faccio customize me lo posso anche portare quindi nell'elenco di file che posso creare volanti da qui markdown save ok delete me che tanto questo è solo un progetto di esempio salviamo il project salviamo tutto questo dove l'hai salvato ciccio non l'hai salvato save as salvo pure qui ok ok ah code scusate ok infatti in parte dell'anteprima io partirei dal code comunque quindi potete scrivere titolo 1 titolo 2 paragrafo qui c'è lista elemento 1 2 3 eccetera eccetera in preview ve lo trovate dato sapete che nel progetto c'è una project page option project page potete scegliere il file md come project page quello che succede è che quando voi chiudete il progetto e lo andate a riaprire aiuto che è successo si è bloccato tutto e lo andate a riaprire vi trovate la pagina aperta tac quindi questo è ottimo per farci un redmi farci un scriverci delle informazioni magari utili allo sviluppatore e quindi dentro ci trovate il le varie informazioni quindi ci servono quindi adesso crearlo non c'è più da fare add new html e rinominarlo perché prima si faceva così oppure lo si andava a scrivere su disco e si faceva un ma vedi anche qui un bel un bel menu alt ins qualcosa del genere cioè qualcosa di più un po' più rapido non sarebbe male da questo punto di vista quando l'idea viene eseguita con privilegi elevati ci scrive administrator finalmente questa è una cosa che c'è in visual studio ed è comoda io non lo uso in questo modo ma so che per certi versi molti lo fanno e sicuramente può essere comodo anche questo è abbastanza interessante cioè il fatto di avere lo show in explorer sulla build e facendo show in explorer cioè fate la build del progetto create l'eseguibile se andate a fare show in explorer sulla build vi porta alla alla cartella dove c'è il progetto let me win32 debug dove ha creato l'eseguibile questo direi che è bello bello comodino è molto interessante mi piace molto comodo secondo me io quello che facevo era andare in explorer dal progetto poi win32 debug però se non inizia a averne n in questo modo è molto più comodo e non si è rischiato di sbagliarsi perché a volte magari clicchi su 32 bit volevi andare nel 64 cioè un attimo come editor structural flow control break control moves con versioni idpi questa ci vuole ci voleva perché secondo me era un po' era un po' brutto da leggere ovvero qui una cosa del genere ok finalmente l'icona non si vede magari però perché se io la ingrandisco sembra sgranata ma adesso viene mostrata in maniera un pochino più questo è probabilmente effetto della paint quindi se trovo un exit ve lo stampa così vediamo se hanno magari cambiato anche qualcosa dal punto di vista oppure se fate un while true do begin mettete un continue ci viene la freccia verde in su il break fa la freccia verde in giù l'altro fa la freccia rossa cioè quindi mi sembrano un pochino già più gestibili da questo punto di vista poi il sync editor non ho capito perché hanno cambiato l'icona qui ma mi sta bene magari anche quella è prova la break ah ok già fatto forse ho scritto prima questo intendi no? l'exit prima mi sembrava però incurvata la freccia quindi comunque va benissimo importante no ed erano delle icone che erano un po' brutte da vedere qui mi aspetta ad esempio che se io faccio anche un ingrandimento del codice arriviamo a dimensioni abinormi ecco l'icona sia sempre cioè come dire vabbè voi forse l'avete sgranata di nuovo ma sia sempre ben ben visibile e e che non non sgrani invece quella di prima o rimaneva piccola o comunque era abbastanza bruttra era da leggere era proprio brutta come iniziava a essere brutta perché secondo me non era neanche compatibile con l'ide scuro e quindi un metro return control flow break moves il testo dell'opacità può essere can now be changed on editor search page scusa quindi andiamo a vedere nelle opzioni editor editor probabilmente si riferisce a qui al colore ci sarà un elemento selezionabile che sarà il il codice come dire dimmato probabilmente prima non c'era ma search no questo qui enable core highlight search selection matches ok quindi editor search editor search oh eccolo qua opacity vabbè ecco qui a volte mi sembra che rendano un po' disponibili delle opzioni che c'è l'opacità questo non so in quanto se ne andranno a customizzare mi sembra addirittura finire eccessivo ma va bene the font size for future designer int window has been improved la int window cioè si intende questa roba qui vediamo un attimo può darsi ok si mi sembra che sia un po' più leggibile design a lead window sync edit struttle flow sono initata idpi new items had an issue when the view was changed ok pad dialog non faceva vedere dei percorsi non validi in grigio stability issues si possono aprire più editor ok poi ci sono novità del compilatore quindi qui pare essere finita la parte dell'ide compiler toolchain vediamo un po' velocemente cosa c'è anche perché poi la parte c++ mi interessa relativamente ok c'è sempre del file sp perfetto perché comunque è un lavoro a stretto contatto con il compilatore quindi ci sta fix it for manage record che io ho utilizzato ci abbiamo fatto anche una live sopra vedendo un po' delle particolarità ci abbiamo ragionato è molto interessante issue con i generiche relativi constraint con geni problem correction address regression che faceva comparire delle righe totali nel compile progress ad esempio quando facevi la compilazione di spring 4d comunque avere la libreria citata nella documentazione come libreria che provoca un bug nel compilatore non è male ldb debugger has been rebuilt with Ubuntu 18 Python 3x minimum requirements infatti queste sono poi alcune delle dipendenze che vanno installate quando se ad esempio usate docker per costruire un'immagine dove installare il PA server che è stato aggiornato altre issue sistemate per macOS e linux tutte le piattaforme non windows sono passate a questo debugger quindi non c'è più il supporto per il debugger gdb sì perché c'era un po' di commistione quindi al momento quelle non windows lavorano con questo quello di windows è ancora tra virgolette separato anche per il compilatore è veloce particolare quindi prima probabilmente di rimpiazzarlo con quello che viene usato per le altre piattaforme che è tendenzialmente un po' più lento ci pensano un attimino e quindi ci sta quindi nuove versioni del psver giustamente ci sta infatti poi devo anche ripristinare gli sdk che avevo in delfi con linux su docker e su anche android user can detach inspector arrangement option available for raise support in android 64 si cose comunque molto molto puntuali miglioramente le librerie quindi abbiamo librerie un po' tutto corto un po' dappertutto parte php delfi rtl firemonkey quindi ce n'è un po' per tutti radmodify prelocation logic to prelocate more than needed to reduce the realloc and copy operation quindi da quello che leggo ma è stato tutto a capo pensi posso aggiornare no puoi aggiornare c'è immigration assistant quindi volendo puoi so che puoi si si con la 11.2 tu togli la 11.2 metti 11.3 fai la migration c'è proprio una pagina anche della documentazione qua che affronta tutto il io di solito ne approfitto per fare un po' di pulizia perché voglio però se hai delle libri installate puoi partire esattamente come riprima tenendo proprio le stesse chiavi di di registro tutto quanto c'è il migration assistant anzi secondo me sulla disinstallazione o uno dei processi ti chiede se vuoi mantenere però userei migration assistant comunque che sicuramente riparte dal però si è compatibile a livello binario quindi non ci sono da comprare i componenti terze parti a meno che qualcuno non abbia usato proprio delle restrizioni specifiche con versione molto rigida come dire il prodotto è lo stesso non dovrebbero esserci appunto nessuna modifica sul linguaggio proprio per la questione del compilatore che lo stesso i binari sono compatibili quindi non c'è nessun tipo di cambiamento da questo punto di vista qui da quello capito su android nell'allocare memoria se ne alloca un pochino di più rispetto al passato perché il sistema tendeva a fare delle realloc e vabbè quindi se dato questo il codice inizia a richiedere un sacco di memoria allora lo devi rivedere quindi per cui si è spostato un po' il problema dal sistema vabbè chiaro che se fare questa cosa agevola il 99% delle applicazioni c'è un caso particolare perché chi l'ha fatto non è stato particolarmente parsimonioso si parla tra l'altro di android quindi ci sta che questa questa mossa poi venga fatta l'ottimizzazione della move rtl function move da 2 volte a 5 volte più veloce quindi move sempre della memoria zlib library directory get files improve performance for many files quindi non so come hanno migliorato ma hanno migliorato il recupero di qui di problemi ecco con defi non ho mai sperimentati in dotnet non perché sia dotnet ma perché lì ho avuto l'occasione di fare programmi che lavorassero con delle directory molto piene e forse la soluzione migliore è usare un'altra API che c'è a disposizione non so se in defi c'è qualcosa del genere ma presumo di sì a parte che volendo possiamo chiamarle API direttamente quindi abbiamo in realtà l'opzione c'è sempre perché se non c'è la funzione RTL possiamo invocarla per andare in maniera sincrona cioè una sorta di dammi file di questa directory però pian pianino ti inizia a passarti e li continuo a scansionare quindi se devi magari iniziare a dare un elenco puoi andare gradualmente senza aspettare di averli tutti perché c'è la directory molto piena so che sulla VCA hanno messo appunto il multiselect sulla control list la control list per chi non si ricorda è quel componente nuovo che assomiglia un po' alla list view di FireMonkey ci hanno voluto fare un equivalente della DB control grid che si ripete cioè qualcosa che si è in grado di replicare pulsanti etichette per tanti elementi quanti sono la diciamo il data source che andate ad agganciare data source in senso generico c'è più che altro bind source questo forse il termine più corretto cioè con live bindings potete possono essere tabelle ma potrebbero anche essere oggetti eccetera e replica quei controlli quindi vi fa una lista dove potete a design time mettere dei controlli che vengono replicati per ogni elemento e cliccando sapete quale elemento selezionato ecco in questo caso la lista supporta anche una una selezione volendo selezionare gli elementi la selezione multipla con il control e lo shift quindi non so se qui c'è possibilità di fare un un demo perché dovremmo agganciargli magari qualcosina ci sono però delle configurazioni in preset tipo una cosa del genere gli date la play è chiaro che se volete vedere più elementi dovete in qualche modo stenderlo è vero che però c'è un prototype bind source che potremmo usare abbastanza era giusto per vedere un attimo che cosa hanno aggiunto di bello bind visually qui c'è da mettere però dei campi possibilmente quindi mettiamo un campo contact name color names nome dei colori name floats lorem ipsum mettiamo un lorem ipsum che fa prima lorem ipsum 1 attaccato a caption 1 l'asterisco all'asterisco se questo lo lanciamo dovremmo dirgli quanti record generare 100 qualcosa del genere non so se funziona già così a l'ha aperto in un altro schermo lanciata l'applicazione è lanciata ma non la vedo no forse non l'ha lanciata curioso deve essere da qualche parte anche se io non riesco a vederla ma parla è strana queste cose qui allora vi attuo l'image a farne qualcuno di meno no no è ancora attivo andiamo a vedere i dettagli va ah ma aspetta abbiamo abilizzato version un'info no se in auto create ah ma aspetta ho messo qualcosa nel create quindi che tipo di linguaggio è Delphi nel senso che cosa ci si può fare diciamo che come prerogative seguo un po' le stesse che potremmo attribuire non so a C sharp come tipo di linguaggio quindi un linguaggio tipizzato è un simil adesso ho capito perché non funziona c'è un codice io non sono scordato questo ho lasciato un ciclo infinito all'avvio dell'applicazione solo io posso fare una cosa ok adesso esce fuori qualcosa ecco volevo vedere un po' di questa roba qui quindi se io faccio control non funziona però se io gli attivo gli attivo il multi select dovrebbe funzionare e stavo dicendo quindi come come linguaggio è quello però diciamo dietro le quinte è un pascal attizzato ovvero un codice pascal leggibile a oggetti che supporta tutte le feature moderne come metodi anonimi o closure generics classi record string e quant'altro seguendo la sintassi dell'objet pascal quindi abbastanza leggibile come tipo di adesso questa è il codice della vcl della libreria con cui si sviluppano le applicazioni visuali però ad esempio dando un'occhiata a questo pezzo vediamo form 1 che è una finestra vuota che in realtà dà una form modello dentro ci sono questi controlli possiamo mettere associare a dei pulsanti degli eventi tipo qui ci potrei mettere show message ciao chiaramente lo farà per tutti gli elementi ma poi dovremmo trovare il modo di distinguere e qui ti trovi la tua schermatina ciao e quant'altro ci si fanno applicazioni visuali per windows con una libreria che si chiama vcl e applicazioni cross platform quindi per mac android ios linux con un'altra libreria che si chiama firemonkey che è molto simile ma una libreria grafica cioè disegna grafica che poi può essere o grafica custom come riquadri gradienti eccetera o grafica che riproduce dei widget quindi dei riquadri che sembrano pulsanti e sono pulsanti che cliccati rispondono poi al codice degli eventi quindi il codice degli eventi può essere scritto così in maniera tradizionale molto simile a un approccio come il visual studio o in form sul vecchio visual studio oppure si possono applicare tutti i pattern che si conoscono da mvvm qui c'è ma anche l'esperto in chat Maurizio che Maurizio Del Magno che ci ha sviluppato un framework intero sull'approccio a mvvm ed è fattibile quindi gestire tutto da codice quindi un ambiente rad quindi orientato allo sviluppo rapido di applicazioni sia desktop che mobile però lunedì ad esempio ci abbiamo fatto anche un'applicazione API REST per il server quindi chiaramente facendo un'applicazione console va bene per Windows ma va bene anche per Linux potrebbe essere un Linux che gira all'interno di Docker e quindi può essere tranquillamente un'applicazione che ti espone un API una web API da invocare da un'applicazione mobile fatta sempre con Delphi o con qualsiasi altro linguaggio visto che REST non è uno standard ma è come il codice dei pirati è una linea guida quindi comunque cosa qui io di solito lo porto perché gli altri linguaggi sono già abbastanza inflazionati questo è un po' più di nicchia però secondo me ha qualcosa da spendere e quindi mi piace anche portarlo perché comunque utilizzarlo è anche divertente quindi rispetto ad altre cose è divertente e poi si ottiene in poco tempo comunque un risultato che produce qualcosa da vedere quindi generalmente anche andando a vedere le live precedenti adesso magari per metto anche il link del mio canale youtube dove carico di solito le live abbiamo fatto dei giochi abbiamo fatto il tabellone della tombola abbiamo fatto abbiamo fatto quindi a livello grafico un paio di giochi abbiamo lavorato su delle pi abbiamo fatto praticamente di tutto quindi abbiamo usato il bluetooth di recente abbiamo provato dei pattern di retry abbiamo quindi fatto logica applicazioni visuali cose di qualsiasi tipo quindi da lì si 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 vede un po' tutte le potenzialità dell'ambiente poi nell'home page di questo canale c'è anche ah questa è una domanda è già la seconda volta stasera che mi fanno questa domanda l'hanno fatta poco fa un'altra persona che è passata ma magari mi conoscete che mi ha chiesto se valeva la pena fare l'università no secondo me questo può essere un linguaggio adatto c'è una versione community gratuitamente da utilizzare quindi se uno vuole sperimentare un ambiente visuale semplice e accessibile anche senza essere espertoni di programmazione adesso metto il link che copio direttamente grazie per il follow intanto benvenuto tra l'altro mi sono dimenticato ci sono c'è una versione community che si scarica e lavora sia su windows che su android su android in particolare piacevole perché attaccando proprio il device tra l'altro stasera volevo testare un componente nuovo che hanno aggiunto perché questa è una nuova release appena uscita c'è un componente per fare l'accesso con l'impronto digitale quindi biometrico e volevo vedere se funzionava dopo la vado a testare e quindi un ambiente gratuito c'è oppure in generale il linguaggio che uno preferisce può essere python può essere javascript può essere anche c sharp comunque in generale il linguaggio va più a gusto che non in un certo senso a come dire fai vedere la preview con mobile cioè intendi la preview con mobile ah dai proviamo il coso bio così ci distraggiamo un attimo perché sono curioso di vedere quel componente lì però mettiamo in un'applicazione template adesso faccio un bio test lo chiamo così perché mi gira così certo che comunque il nome della cartella ok però almeno salvamelo non come ma no volevo salvare il progetto ho sbagliato opzione ok ola ok bio non buio bio test ok quindi questa è un'applicazione fuori dal lead intendi beh già interessante comunque quella del lead anzi voglio vedere se l'ha un attimo sistemata perché l'ultima volta che l'ho fatta vedere ho detto guardate com'è bella la multi device preview poi è cresciato tutto ecco qui c'è una preview volendo con dei device che si possono andare ad aggiungere in base al ecco c'è cresciato di nuovo questo devono guardarla perché c'è qualcosa qui che non capisco come mai però tiene lì di nostaggio e non esce più non so come mai e non so che cos'è o quantomeno rimane fermo per un po' di tempo e l'unica cosa è andarlo a interrompere non so come mai però si c'è anche la preview mobile fuori dal lead adesso mi vado a pescare devo trovare il cavetto il mio cavetto il mitico cavetto dove l'ho messo ah ci non dovevo dirlo no quello fuori dal lead aveva ragione infatti che tra parentesi è sempre stato un po' ballerino adesso funziona meglio di quello integrato che non è però vabbè il telefono non dovevo dirlo ma sapevo che lì c'è un problema e adesso segnalerò non so se è una cosa che riguarda solo me o che cos'è però vabbè allora ho quasi finito tutte le porte ho tutte le porte occupate a momenti ok così vediamo lancio il tool così riusciamo a vedere forse aspetta che devo metterlo in debug che non mi ricordo mai come si fa così consenti sempre ok so che quando lo riesco a vedere da qui ok lo riesco a vedere un po' dappertutto questo è il mio device il mio device android non è l'emulatore è proprio un telefono che mi tengo come muletto e c'è il programma che fa vedere quindi se uso il mouse fa la simulazione quindi è comodo però ci sono già delle app tra cui alcune queste qui con l'icona fatta in delfi quindi questa master detail è l'applicazione che stavamo vedendo prima con che gira su desktop e volendo si può mettere anche su 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 mobile quindi andare a a cliccare vedere il menu Paul Davis che qui scrolla ah giusto sto usando la rotellina ma in realtà devo fare così quindi farlo scorrere pian pianino tac e si vede il ok quindi poi ci abbiamo fatto dei giochi c'è un il gioco del del maialone però vabbè adesso questa parte quindi questa è biotest che in realtà non si chiama più così però non si è salvato non si è salvato il nome ok adesso lo vado lo vado ad aprire con quel nome così no horse wizard non mi interessa è il server che abbiamo fatto lunedì ok andiamo a vedere questo biometric authentication che cosa che cosa fa ensure the prompt properties or list prompt description prompt title and values un authenticated such authenticated fail ok c'è l'applicazione c'è anche il componente quindi supportato solo su android 10 o superiore attenzione potrei non avere una versione qui che android c'è android 10 fantastico è andato benissimo quindi ok quindi prendiamo sta applicazione qui e adesso ci vado ad aggiungere qui in questa bella form un button ok che vado ad allineare qua in alto quindi potremmo metterlo anche in basso forse un po' fuori dalle scatole mettiamo bottom gli cambiamo il testo quindi test autenticazione biometrica ok lo chiamiamo bio out button e sul click proviamo andare a fare ah sul click niente perché sul click to do ok così andiamo a metterci questo componente biometric out non so se ha bisogno di chiedere degli enlistment o qualcosa del genere cioè se nelle proprietà del progetto nell'entitement list come da ora si chiama ok sì biometric authorization service dobbiamo attivarlo cioè dobbiamo far sì che quando l'applicazione viene installata dica d'android che utilizza il servizio di autenticazione prompt title ci mettiamo mira al dito come si chiama qui si raccomandano di avere ok di avere queste due proprietà impostate si vede che se no non si scrive niente non si capisce niente prompt title allora test bio accesso bio usa impronta o altro arto no usa bio per accedere no questo è il sottotitolo usa impronta digitale o altro organo per accedere va bene ok quindi qui gli eventi si sprecano authentication success mettiamo abbiamo una label da usare ah no abbiamo però forse possiamo usare il pulsante facciamo bio auto button c'è il tint color mettiamo che è di tipo cos'è un alpha color sorry allora di che tipo è non mi ricordo ok quindi facciamo che io ci metto questo alpha colors green in caso di buon fine e se invece va in fail lo metto rosso ah poi abbiamo anche la reason il perché è fallito e il result message tra i motivi è fallito unknown cancelled fallback denied locked out locked out error cioè abbiamo proprio il non si può usa il titone ciao mister k usa il titone è bellissimo quindi ha l'homer simpson ha il dito troppo grosso mettiamo e per triggerarlo cosa bisogna fare bisogna semplicemente fare authenticate possiamo aver capito methods sicuramente un method authenticate start authentication flow ok se è così gnocco cioè veramente no biometric out 1.authenticate ok quindi target platform c'è già android vede già il mio dispositivo faccio refresh qui lo vedo allora prova a fare un run così vediamo se hanno corretto anche il manifest c'era un problema sul manifest si è addormentato il ah no è ancora qui e direi che c'è ancora ma secondo me è un problema del mio sdk o di qualcosa del genere perché c'è una parte c'è sempre questa per qualche motivo che non va non viene sostituita con adesso vediamo se compila perché se compila quindi va quindi adesso avanza quindi mettono questo template di manifest già un po' fatto è una parte che viene sostituita dalle selezioni che si fanno ovviamente dentro l'ambiente e che vanno a rimpiazzare nel modo corretto il manifest per farne poi al fine un unico e c'è quella parte lì che ovviamente non viene rimpiazzata e quindi va in errore perché non può rimanere così però non la vedo segnalata molto in giro e quindi non capisco quale può essere il problema comunque allora adesso torniamo qui nella nella mia chiaramente sta roba funziona solo su mobile mi pare di capire l'applicazione è partita e gira perché qua vedo Paul Davis James Garcia adesso uso beh uso il telefono perché le faccio test autenticazione biometrica mustev nor current process non ha il permesso anche se io glielo ho abilitato quindi ok si dopo non me lo chiede più però non gliel'abbiamo abilitato mi pare di si gliel'abbiamo abilitato mi sembra meno che io non l'abbia attivato per la piattaforma sbagliata no ce l'ho aspetta permission andiamo a vedere anche qui perché c'è roba anche qui ovviamente una volta partiva tutto attivo che non andava bene use biometrico ok probabilmente è questo che manca spero una volta tutto attivo le applicazioni prendevano tutti i permessi possibili immaginabili adesso giustamente sono graduali ha più senso solo che poi devi stare attento ovviamente a chiedere tutto quello che vuoi c'è il discorso che si può fare anche a runtime volendo quindi classico consenti e quindi però in questo caso dovrebbe essere già richiesto in fase di installazione l'applicazione gira sì ok quindi se pigio qui sul telefono vedo scorro l'elenco quindi funziona susan sanchez c'è l'applicazione va adesso provo a rischiacciare vedendo se testa autenticazione biometrica mi dà un rosso quindi è fallita subito apparentemente però sono un salame sono un salame sono un salame perché qui non c'è la non ce l'ho qui era sul vecchio che avevo la porca la miseria che avevo l'autenticazione biometrica oppure l'ho spenta dalle impostazioni no però mi ricordo di averlo in pronta id in pronta non dimenticare il tuo pin adesso ne metto uno a caso ah non ci sono proprio le impronte nuove impronte ah eh quella sotto no qui c'è quindi ok vedete da quando l'ho resettato non ho mai come dire non l'ho mai più riconfigurata la mia impronte digitale quindi beh il bello della diretta come dire no mi manca un pezzo di dito premo il sensore al punto del dito ecco la punta sorry registrazione completata ok quindi non avendo mai avuto impronte è difficile che proviamo biotest ok l'applicazione va test autenticazione oh bellissimo test accesso bio usa bio per accedere usa impronte digitale o altro organo per accedere tocca il sensore ah sono andato nella home test 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 ma non devo non devi tenere premuto mannaggia per funzionare funziona ma l'hanno messo in un punto in un punto veramente nefasto c'è proprio il ditone quindi ah Petrus comunque secondo me è sbagliato che vada alla home allora dov'è che c'è display dove si impostano i tasti tasto tasto impostazioni se non sbaglio dicevo accesso al dispositivo no ma qui c'è il problema c'è il problema che io ho l'improteggitare proprio sulla su un tasto home e quindi pigiare su quello fa datevi a messo c'è password impostazioni sblocco intelligente no ed impronta utilizza per sblocca il dispositivo no proviamolo così probabilmente però non è colpa del ehm si sblocca ma mi porta appena lo chiudo mi porta direttamente alla home per qualche motivo se non sbaglio dicevo accesso al dispositivo prima nelle impostazioni accesso vediamo se qui controllo del movimento controllo focale eye touch no eye touch non mi interessa però secondo me è un qualcosa che devo che devo gestire anche lato applicazione in qualche modo che nel momento in cui ha rilevato rilevo il tasto e se io non non lo non l'assorbo in qualche modo però ecco dal momento che andavo in errore non non mi non dava questo problema però come non è che devo dare un feedback o qualcosa ma non mi sembra quindi can authenticate vediamo se per caso ci sono delle altre funzioni diciamo la richiesta la fa quindi cioè il componente di per sé funziona poi magari cancel button text device credential strong weak ok ok qui ci sono delle altre reuse time prompt confirmation required fammi provare questa cosa qui e vediamo se cambia qualcosa giusto giusto per poi 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 me lo me lo indagherò a fondo vedrò se c'è un problema del dovrei provarlo sull'altro telefono dove l'imbrillettore dell'impronta è è sempre sullo schermo ma non è associato un pulsante questo telefono è un po' particolare perché c'ha proprio il coro sulla home adesso sta compilando lo sta firmando lo sta installando lo sta lanciando ora ce le provo niente stesso effetto stessa cosa però mi sembra che in un certo senso esca lo stesso che l'applicazione tenda a chiudersi per qualche motivo devo indagare devo indagare devo capire devo capire se ho fatto tutto oppure se manca è anche vero che questa è una versione un po' diciamo si android 10 va bene set design properties insure assicurati assicurati vuol dire che devo farlo per forza magari device credential e reuse time che roba è ci vuole bisogna perdersi un attimo a analizzarlo però diciamo che è interessante anche perché ok no additional information va bene observer component style loud attempts direi che è abbastanza intuitivo però vedo che non è pubblico provo a aumentare il numero provo a fare un po' di modifiche però vabbè poi basta dai siamo divertiti abbastanza con questo componente poi se se mi va lo metterò a parte che forse c'è anche un qualche demo già pronto da usare che non è neanche da escludere quindi se vedo qualche pezzo di codice magari me lo analizzo che potrebbe essere più indicativo da questo punto di vista ok ci riprovo l'ultima volta poi basta allora no continua a uscire sembra che esca in realtà perché se io faccio cancel me lo ritrovo qui di nuovo quindi o ha una qualche forma di incompatibilità con questo telefono oppure c'è qualcosa che c'è qualcosa che non quadra allora facciamo una bella prova con un altro tocco per l'attrazione USB trasferimento di file questo dispositivo però ecco questo che è il mio Samsung un po' più non ha il debug attivo devo attivare il debug probabilmente sì dunque per diventare sviluppatori bisogna andare sulla versione del software se non ricordo male sulla build e pitonarla ecco ti mancano 4 3 2 1 passaggi per diventare sviluppatore la modalità sviluppatore è stata attivata l'opzione sviluppatore rimani attivo no no questo non è non esageriamo debug USB ok consenti dal computer facciamo un refresh ok abbiamo anche il Samsung Samsung ce l'abbiamo vediamo se riusciamo a vederlo anche a video no no non gli piace vederlo a video forse c'è da abilitare qualcosa però provo provo a lanciarlo comunque sul mio poi lo metto in cam un info hai mai usato LG con Delphi come device no non ho mai avuto device LG effettivamente quindi non l'ho mai provato sempre ho avuto degli honor honor e di Samsung principalmente quindi mi alterno su queste marche come vediamo qui c'è una versione di android aggiornata di pacca quindi è proprio per cui vediamo se c'è una differenza nei comportamenti perché effettivamente lato dispositivo inizia a essere un pochino no qui non è riuscito a installarlo intent filters perform data target lequano explicit value all file should be loaded qui c'è un problema di altro tipo qui c'è un problema di configurazione secondo me devo abilitargli non c'è l'app impostata per il debug tendi debugger qui ci manca su questo telefono manca proprio la configurazione di come dire di quello che serve per il debugging quindi da qualche parte niente devo guardarlo devo guardare cosa serve seleziona l'app del debug però non mi da non mi da delle grosse scelte feature flex ci sono forse qui forse è un 64 bit ah c'è ragione potrebbe anche essere quello è il problema adesso provo fammi provare se magari può essere questo il problema ottimo ottimo spunto perché cioè dall'errore mi sembra tutta altra cosa però sai com'è la trovo un ottimo suggerimento perché hai visto mai che magari però effettivamente non l'ho mai attivato le funzioni di debug quindi ho visto che ci sono una marea di opzioni anche di altro tipo e quindi a parte che adesso che ci penso installazione di applicazioni di terze parti da terze parti forse è anche spenta quindi potrebbe anche esserci un problema in più no ha un altro anche questo adbinary xml file non è che per caso per questo serve il famoso serve quel famoso flag che normalmente non mette nella query fammi vedere adesso provo a fare un'altra applicazione siamo partiti da un app test siamo partiti da vedere delle cose al provarne delle altre completamente diverse ma è giusto per capire se c'è qualcosa che tocca allora vediamo proviamo a installare questa e vediamo se c'è se in questo caso il manifest da meno problemi il telefono non è nuovo ma questo direi che proprio permane e quindi è sempre da risolvere in qualche modo anche se non vedo altri segnalarle quindi non non ho la più palida idea in 21 posizione 2 è In realtà dovrei vedere se qui Come sempre uno si affida un po' alla fortuna ma Non avevo finito di leggere Tools option Andiamo a vedere Nel Dov'è, dov'è, dov'è Qui Ah no, di roba non è impostata direi che non ce n'è Secondo me Devo trovare Devo verificare Che ci sia Che ci sia tutto quello che serve Comunque vabbè Darò un'occhiata così abiliterò anche questo telefono Per fare Un po' di cose Ma vedo che non funziona per dire neanche Il tool che consente di visualizzarlo Quindi Ci deve essere qualcosa Di diverso Che non funziona Dunque dov'è che l'ho installato Da qualche parte Qui Ho l'applicazione Apps Però Si trova Apri il percorso del file Vabbè Qua sotto Quindi CD Vediamo l'allore che dà Device disconnected Il dispositivo si accende Però poi mi pianta in asso Non è che c'è Aspetta eh Perché Provo a scollegarlo A ricollegarlo Qui USB controllato Da USB controllato USB controllato No Tiene a ricollegarsi Inizial texture Device disconnected Non so come mai Non so come mai Ma Più guardo E più Si attiva Routing Per il fardomatico Attiva Street mode Non c'è nulla di Di attivo Sembrerebbe Tutto ok Nonostante Niente Come dire Facciamo un android Per qualche motivo Non ne vuol sapere Ma salve Scusate Ero impegnato Ero impegnato a leggere Non ho visto Benvenuto Stiamo cercando Di far partire Un'applicazione Con Per controllo Biometrico Su un Abbiamo un telefono Un telefono vecchio Che quando chiede L'impronta L'impronta Funziona A tutti gli effetti Però Ha il problema Di non Di non riuscire Di andare alla home Per qualche motivo E non si capisce Come mai Faccia Faccia Così E invece Questo No emulator Found Qui funziona Tutto Se non fosse Che Purtroppo One file Pushed Device Texture Qui funziona Un pochino Tutto Però Cose fighe Insomma Esatto Come Volevamo Testare Questo Fantasma Agorico Compionente Biometrico Che quando Piggio Chiede L'impronta Però Questo effetto Che Nel Piggiare Questo tasto Mi porta Alla home Come se Come se Il tasto E quindi Volevo provarlo Su un altro sistema Ma il mio telefono Aggiornato Non Non ne vuole sapere Probabilmente Manca Qualche Configurazione Non ho controllato Qui se C'è qualcosa Di particolare Abilitato Ma non mi sembra Sulle Informazioni Di Debug Che tra l'altro Non vedo Neanche Più Qui dovremmo essere già Sviluppatori Vabbè Scoprirò Che cos'è Che non funziona Provando su un telefono Più Più recente Come dire Anche qui c'è Da aggiornare Un po' di roba Interessante Comunque Questo nuovo Componente Perché senz'altro Il fatto di avere Un'integrazione Con Vi chiedo Come mai Non sia stato Richiesto Forse è stato Richiesto Quindi Anche questa È una delle novità Questa nuova Versione Di Delphi Non ho quasi Mai sviluppato Un'app Android Che il linguaggio Fremont Sto utilizzando Qui Sto usando Delphi Stiamo vedendo Le novità Di una Versione Che è appena Uscita Quindi Questo è Tutti gli effetti Delphi Dove puoi fare Applicazioni Sia per Windows Ma anche Multi device Partendo da Un template Oppure Oppure Partendo da Un'applicazione Vuota Le applicazioni Multi device Come Come questa Sono applicazioni Che potenzialmente Vabbè L'ho già creata Quindi Girano Tipo quella Che stavamo testando Del Della cosa Biometrica Girano Su tutti Questi ambienti Quindi per farla Girare su Windows Testarla su Windows Oppure Su un desktop Mac OS Oppure IOS Android E qui ci manca Una piattaforma Che non c'è Di default E che non mi dà Disponibile Perché devi installarla A meno per Applicazioni Visuali Quindi la Andrò a installare Prima di Subito Che è Linux Per le Applicazioni Visuali Al momento c'è Per le Applicazioni Console Mentre per Le Applicazioni Visuali C'è un Pacchetto Da scaricare Dal Package Manager Che si Chiama FMX Linux Linux FMX Linux Eccolo qua Install Dopodiché Si può installare Anche l'applicazione Client Con la finestra E tutto Visibile Anche su Linux Di solito La provo su Windows Nel Cosiddetto WSL Cioè il sistema Subsystem Linux Ad oggi se hai una macchina Windows e ability Nell'installazione Il WSL È una macchina Linux Pronta Da Utilizzare Integrata Nel sistema Operativo Quindi puoi installarci Un Ubuntu Puoi collegarti In RDP Oppure puoi lanciare Un'applicazione Quindi questa Applicazione Che potenzialmente Funziona Su Windows Tranquillamente Tranne la parte Biometrica Che ovviamente Andrebbe Testata Infatti Mi dice Biometric Out Not Found Perché Non Lavora Qui dovremmo Metterlo Diciamo Sotto Un cappello Del tipo If Not Def Oppure If Def Android Dovremmo Aggiungere Questa E poi Metterci Una sorta Di Andif Cioè Dirgli Guarda che Questa roba Serve solo Se abbiamo A che fare Con Android O Quello Che è Tamarrano Me l'ha riscritto Ho selezionato A piattaforma Giusta Sì Altrimenti Posso fare Ripartire Dal template Fare Questo template L'abbiamo creato Almeno Due milioni Di volte Perché Ad esempio C'è un'applicazione C'è un'applicazione Cui tab Che può girare Su Android O anche su Windows Quindi basta fare Un doppio click E Lanciandola La si vede Ah C'è anche il gesture manager Quindi se io faccio così Se lo attivo Dovrebbe Passarmi Da un tab All'altro E dal Quindi puoi testare La tua applicazione Su Windows E E Poi switchare E Farla girare Su Android Vedere Come verrebbe Ecco su Mac Quei suoi stili Vedere Come verrebbe Su Android Questo è un Android In realtà Già un po' vecchiotto Andrebbe un po' Svecchiato Ma in realtà Così come questo È un IOS Un po' Un po' Troppo classico Forse Però Però È lui Quindi Tra l'altro Da notare Che su Android I tab Sono in alto Su iOS Sono in basso Quindi rispecchia Perfettamente Le Quelle che sono I default Della I default Della piattaforma C'è una versione Gratuita C'è il sito ufficiale C'è la versione Gratuita E quindi Community Con cui si può Sviluppare Gratuitamente Su tutte Queste piattaforme Dovrebbero Spero Che ragionino Con questa nuova Release Quanto meno Somm Baluni Regression Style Look Tribute Su FireMonkey C'è questa autenticazione Poi cosa abbiamo Ancora Access violation Sulla string String reader Un package Di terze parti Le radiant shape Sono Sono quel pacchetto Che si trova Ciao Ciao vision A volte non guardo La chat Sono Sinare Che pizza Abbia fatto Iscrivere Sì quindi Lascia stare Che lunedì Ho fatto vedere Volevo fare una libreria Non sapevo Come a cosa ispirarmi Mi sono ispirato A Apollo Ne ho fatto Dei loghi Con L'intelligenza artificiale Mi sono venute fuori Delle Delle bambine Bionde Che sono Totalmente Totalmente Inadeguate Per A qualcuno Di voi Stream Perché io mi scordo Sempre di fare Di shout out Se qualcuno Stream Faccio uno shout out Mi viene in mente Quando c'è Few bit Però Che non è nato Che stream X-radius Tab Improvement To tab key Qui non so Che roba ci fosse Che non andasse Artifact lines Il T-memo Aveva delle grosse Problematiche L'ho provato Nella live Che abbiamo fatto Con Penso tutti Io sì Ci conosciamo tutti Beh però Non Ti vedo Spesso Almeno Nelle mie Quindi forse Vediamo Fai Software Engagement O comunque Non ti seguo Quindi dovrò Venire a seguire Dare un'occhiata Quanto meno Noi sviluppatori Dobbiamo fare Un po' Mucchio Per cui Software Development Beh se vuoi Scrivere Cosa Stream Non ci sono Problemi Anche So che nel Vademecum Dello stream Non c'è scritto Mai Andare su Un canale Pubblicizzarsi A game development Già Già Molta roba Bisogna dire Quindi Però Senz'altro Dare un'occhiata Perché sono Sempre curioso Quindi Videogiochi Quindi Molto Interessante Utoff In DTL Fetch Mode Supposto Che SQL Ok Queste sono Proprio Migliorie Specifiche Per Per Questo Database Quindi Proprio Il suo Driver T Binding Expression Casing Sensitive Ah Ok DPI Scaling Per il Query Editor Vabbè Ok Ci sta Però È giusto Ok Sono Proprio Fix Molto Puntuali HTTP REST LINE Libraries Ok Out 2 Authenticator Per Fare L'improve Del Support Out 2 Response Dataset Adapter Miglior Support Per Nested Element Quindi Questo È Il Componente Che Da REST Thanks Thanks to Prego Siamo in Relativamente Pochi Sviluppatori Quindi È giusto Incrementare La promo Poi Supereremo i gamer Il numero No Sarà un po' Difficile Però Quanto Menos Memory Leak In Subserver Application Addirittura Sui web Server O Lato Server Quindi Fare dei web Service Io Non ne voglio Più Fare Notarization Process For Mac OS Con Is Code 14 Ok Questo Per chi Ha lo Sviluppo Su Mac Time Stamping MSX Non è MSX Il computer Ma È il supporto Che c'è Per Lo store Di Microsoft Perché Oltre Gli altri Store C'è Anche Quello C'è Anche Quello Del Buon Microsoft Universal Windows Platform Cioè Le Devi Italiane Siamo Pochi Sì Cioè Siamo Siamo In buon Numero Però Sì Non Non Tantissimi Ma Diciamo Che non Sono Tantissimi Developer Io Sicuramente Sono Una nicchia Perché Questo Linguaggio C'è Un Auto In Francese Che Porta Patrick Che Porta Che Un MVP Dato Mi Sembra Che Porta Questo Questo Tool Per Cui Sono Abbastanza Di nicchia Un bene Ma Un male Anche Per Certi Versi Finito Qui Di solito C'è L'elenco Anche Di tutti I Fix Proprio Come Entri In Forse Però Trovo Nella Main Page C'è Un What's New In Generale Poi C'è L'elenco Del Di solito C'è L'elenco Preciso Di tutte Le WCL Styles Open Tools API Changes Forse Ho Guardato La pagina Sbagliata Perché Qui Option Dialogue Performance Ci sono Delle Altre Focus On Quality No Questo È Un Contenuto Direi Vecchio O Generico Che Ha Le Novità Della Versione 11 Nello Specifico Quindi Tutto Quello Che Entrato A Far Parte Della Versione 11 E Non Della Release 3 Quindi In Questo Caso Si Olso Si Olso Release Note Forse Qui No Aspetta New Feature Fixed Issues Qui C'è L'elenco Completo Di Insomma Sono fatto Un geletto Sul Tuo Link Tree Si Che Dovrei Sostituire Con la mia Homepage Perché Finalmente Annetto Dello Stile Che È Completamente Bianca O Scura La Mascura Non Si Vede Proprio Benissimo Ma Mi Accordavo Sullo Stile Ma Ho Dovuto Farla Partire In Qualche Modo Perché Mi Serviva Fatto L'elenco Di Tutte Le Canale Anche Youtube Beh Se hai visto Il Link Tree C'è Anche Su Youtube Metto Le live Che Sono state Fatte In Passato Perché Dopo Da Twitch Vengono Perse È Vero Che Non Sono Come Fare Un Tutorial Però Perché La live È Meglio Farla Oh Comunque Di bug Ne Hanno Corretti Un Palette Search Painfully Slow Ne Catastrophic Failure Out Of The Box Di Ogni Dove Di Ogni Piattaforma Di Qualsiasi Cosa Questo È L'elenco Completo Con L'entry Dentro Al Sistema Di Gira Quindi Adam Del Tu Quindi A meno Che Non Sia Un Lei Nel Senso Di Come Dice Come Umano Lei Per Per Scherzare Che Usa La Light Mode No No Io Uso L'Ide Dark Quindi Ci intendi Sui siti No Alla Fine Mi sono Abbastanza Abituato Allo Scuro E Grosso Modo Ci ho Fatto La Mano Quindi Però Mi Ci è Voluto Un Po Però In Delphi Ero Abituato Effettivamente A Vederlo Così Quindi Tutto Light Dio È Anche Vero Che Questa Cosa È Diventata Un Po Non Non ho mai sentito Le grosse esigenze Però Effettivamente Quei monitor Grandi Più sono grandi Più luce fanno E quindi Andare sul dark Perché Da quando L'ho Introdotto Dicevano Così Alla sera Ti riposi Più gli occhi Io dico Per riposarmi Gli occhi Smetto di Guardare Lo schermo Facciamo Prima Che Forse È Meglio E quindi Non sono Abituato A dare Le persone Più grandi Di me Io Ho Trent' Anni Beh Comunque Io ne ho Quasi Quattacinque In effetti C'è Un po' Di Differenza Ma Le nuove leve Le nuove leve Dovete Assolutamente Tenere alta La Vabbè Tanto Siete molto Meglio Sicuramente Di me Sicuro Ma Ok No Direi che Più o meno Le Le feature Più interessanti Le abbiamo Viste Non sono Tantissime Più che altro Perché Questa è Proprio Una release Da Da Fix Quindi Ci sta Che Soprattutto Sulla parte L'SP Ne aveva bisogno Sull'editor Coding Sight Ne aveva bisogno Come non mai Questo Ambiente Quindi Ci sta Che ci siano Concentrati Su quello Poi Su alcune cose Tipo Plugin Dell'editor Magari Vediamo Ci facciamo Magari Una live Specifica Ci possiamo Vedere Di Di Divertirci A A testare Questa Nuova Possibilità Che dovrebbe Essere Comunque Ne ancorrete Veramente Un sacco Quindi Ci vuole Tra l'altro Alcuni Veramente Molto Specifici Cioè Allineamento Da destra Sinistra Cioè Tutte Le cose Che possono Essere Sullo Scaling Sull Image List Una Scrollbar Usati In un Certo Contesto Con Certi Contenuti Con Incredibile Anche la Quantità Di scenari Dove Questo Ambiente Viene Utilizzato Che E' Molto Variegato Perché C'è Diciamo Una parte Industriale Finanziale Eccetera Quindi Alla fine D'idea Della mia Tanto Credo Che Mettere Le mani Codice Legacy Di varie Aziende Cazzo Di Monoliti E I Monoliti Più Che Monoliti Come Scritto Il Codice Quindi Quello Ne So Qualcosa Perché Lo Faccio Quotidianamente Con Delphi Con Dotnet Quindi Vedo Un Po Di La Code Base Quindi Infatti Voglio Proporre Un Po Qualcosa Su Microservice Ho Già Fatto Una Un Paio Di Sessioni Nell'occasione Di Una Conferenza Ma Voglio Fare Qualcosa Di Più Di Più Organico Magari Adesso C'è Del Fidel Propongo Come Seminario Sui Microservizi Nel Senso Di API Usare Imparare Usare Docker Mettere Sistemi Di Messaggistica Come Farli Magari Far Proprio Un Bel Filone Tematico E Sì Diventa Un'architettura Complessa Ma Secondo Me La Manutenibilità Diventa Veramente Statosferica In Monoliti Cioè In Monoliti Come Avevo Detto In Quell' Occasione Non Sono Male Ma Ce Ne Vogliono Tanti Di Più E Più Piccoli Se Ne Possono Fare Quanti Vogliamo Quindi Insomma Mi sposto Sull'altra scena Visto che Abbiamo fatto Mezzanotte Intanto Vado a Sgrufolare Se in giro C'è qualche Quindi Anche qui Direi Lancio Il Solito Che tra l'altro Dal cinema Mi sembra C'è L'annexo Che Sono due Filosofie Di Programmazione Si Può Attendere Direi Che Andrà Più Su Microservizi Però spesso Microservizi Si va Più Sul Tecnico Che Non Sul Tirare Fuori Veramente Quello Che Utile Di Quell' Architettura E Quindi Bisogna Parlarne Più Spesso Vabbè Troveremo Il Modo Anche Qui Adesso Mi Ammutolisco Perché C'è Il Il Canale Però Effettivamente È Vero Gente Che Sviluppa Parte Che Io Vedo Di Sviluppatori Che Dopo Un Po Iniziano A Giocare Quindi Smettono Di Fare I Pochi Che Vedevo In Italiano Al Momento Ci Sono Solo Io A parte Che Potremmo Anche Raidare Qualcuno Che Non Vabbè Visto Che C'è Vision Di Solito Se Avete Dei Suggerimenti Di Qualcuno Italiano Non Necessariamente Sviluppatore Andiamo A Disturbare Così In chiusura Di live Come dire La La Chiudiamo Lì Non lo so In bellezza Andiamo a vedere Qualcuno Interessante Anche perché Poi Quando io Non sono In streaming Io Vado Vado a vedere I giocatori Quindi Vado a vedere Gente Che Old School Coder Ci sta Fantastico Andiamo a vedere Però C'è 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 L'italiano Ma Questo Vedo Che È Live L'ultima Volta Ho preso Uno Che In 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 Ah Mitico L'avvocatessa Ah Giusto Che È Un Po Che Ma Si Dai Potremmo Andare A Vedere Qualcuno Che Che Fa Un Po Di Gaming Questo Questo Hogwarts Veramente Ha Spopolato E Come Vedi Ci Giocano In Una Quantità Mostruosa Di Persone Quindi Proviamo A Prodare Passiamo Dalla Programmazione Al Gaming Che Ci Sta Bene Del Resto Che Dire Se Non Sono Già Andati A Nanna I Presenti Ringrazio Sempre Quelli Che Ci Sono Sempre Quindi Un Paio Che Adesso Gli Abilito Il Cosa Di Di Vip Giustamente Perché Sono Sempre Presenti Quindi Ci Sta Dovremmo Quindi Ritrovarci Se Tutto Va Bene Lunedì Non So Con Che Cosa Adesso Ci Penserò Durante Il Fine Settimana Se Portare Qualcosa Di Nuovo Fare Un Po' Di Discovery Più Che Altro Stasera Uno Stream Esatto Se No Ti Avrei Ma Dopo Ti Vado A Seguire Così Lo So E Ti Vedo Direttamente Nell' Elenco Quindi Grazie Di Nuovo Anche Se Siamo A Metà Settimana Però Do Già Il Buon Weekend Visto Che Probabilmente Non Non ci Sono Alte Live Dalla Fina Settimana Non Penso Che Ci Sia Qualcosa Di Così Last Minute Quindi Probabilmente Ci vedremo Lunedì Mercoledì Prossimo Se Tutto Va Bene Dovrei Farcela Sempre Un webinar Da Preparare Domani Un webinar Su Python Rest E la settimana Dopo Un webinar Su MongoDB Sempre Rete Informatica Lavoro Però Vabbè Se mi seguite Su Sui social Su LinkedIn O così Non mi ricordo Anche Forse su Instagram Ho messo qualcosa Non l'ho diffuso Parecchio Ma comunque Se seguite Rete Informatica Lavoro Sono su Tutti i social Trovate Il link Un webinar Di un'oretta Gratuito Abbastanza Basico Però Sull'API Rest Domani sera 18.30 E poi Ce n'è Un'altra Prossima settimana Su MongoDB Se va tutto bene Sempre Giovedì Sempre Gratuito Di un'oretta Doveva essere Un corso unico Poi abbiamo Splittato Cambiato un po' Di argomenti Quindi Non su questo Canale Ma appunto Su Organizzato Da Questo portale Che poi Il portale Visto che qualcuno Ha chiesto Per il lavoro Quanto pagano In Svizzera All'inizio Della live C'era una persona Che si era collegata Che aveva chiesto Questo Ecco lì Un portale Sul lavoro Magari si trovano Anche delle offerte Interessanti E quindi Si può dare Un'occhiata Lì O se cercate Anche qualcuno Da inserire Nel vostro organico Chi ha una Software House E lì Si trova E c'è Formazione C'è un po' Di servizi Legati a A questa parte Faccio un po' Di promozione Visto che Si fa il webinar Quindi è giusto Collaborare Quindi di nuovo Grazie Rimanete per il ride Anzi adesso Lo faccio Partire Ride Li ammazza Stecchiti E ci vediamo La prossima settimana Ciao a tutti E di nuovo Buonanotte Buona settimana Alla prossima Ciao 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 Ciao